Il periodo che precede il Natale rappresenta per le scuole un periodo di intense attività. Infatti ieri tutte erano impegnate per le manifestazioni dedicate al periodo più bello dell'anno, il Natale. L'obiettivo di tutte le scuole è quello di infondere pace, amore e armonia. Infatti anche i bambini della Giovanni Paolo II hanno svolto uno spettacolo dedicato all'evento con recite e canti natalizi. Perché? A Natale si può. Il periodo che precede il Natale è per la scuola dell'infanzia un momento di intensa attività che coinvolge tutti i bambini. L'obiettivo è quello di creare un'atmosfera serena e festosa, arricchendo l'ambiente scolastico di stimoli che suscitano sentimenti di gioia. Tutto è stato svolto nella nostra scuola per tempo, affinché ogni bambino abbia potuto sviluppare la creatività, la curiosità e l'interesse alla scoperta dei messaggi e delle tradizioni. Le tradizioni appunto che il Natale ci trasmette. Questa piccola recita vede coinvolti i bambini di cinque anni come narratori, i quattro anni come angioletti e i tre anni come stelline. E niente, c'è stata una partecipazione bellissima, il messaggio augurale del Natale è stato interiorizzato. Siamo felici di aver coinvolto i ragazzi di quinta, i ragazzini di seconda e quindi abbiamo avuto una esplosione veramente di gioia nella nostra scuola. Grazie e buon Natale a tutti voi! Grazie! Grazie!